Video confronto tra OnePlus 6 e Xiaomi Mi 4C per quanto riguarda la registrazione video a 1080p andiamo per prima cosa a fare un pan veloce, intanto audio di OnePlus 6 state sentendo entrambe le fotocamere 13 megapixel, entrambe sprovviste di stabilizzazione ottica andiamo in un controluce e spostiamoci in una zona fin ombra per vedere come si comportano le fotocamere spostiamoci un attimino di inquadratura e andiamo in macro su entrambi i terminali stabilizzazione, scusate, messa a fuoco che per entrambi dovrebbe essere automatica ma su OnePlus 6 si può aiutare leggermente con un tappo torniamo indietro, andiamo a camminare un altro po' per vedere come si comporta per l'appunto la stabilizzazione e andiamo a fare uno zoom da entrambe le parti, su OnePlus 6 arriva fino a 4x mentre su Xiaomi Mi 4C si potrebbe arrivare fino a 8x ma andiamo a metterlo a 4x su entrambi per vedere le differenze ecco qui potete vedere le differenze nei dettagli, spostiamoci magari su qui in fondo così abbiamo anche un po' di controluce e direi che si sono viste abbastanza vediamo anche qui la pianta torniamo allo zoom normale dunque 1x e per questa prova di confronto tra i video è tutto vi ricordo di guardare il video confronto approfondito tra questi due terminali che trovate sul nostro canale da pochi minuti un saluto da Alberto per Tondroid.net